Buongiorno, oggi sono a Bissone e sto per mostrarvi un prestigiosissimo appartamento. Si tratta di un tramezzo locali arredato. Siamo nell'atrio di ingresso, abbiamo uno specchio di qui, sulla sinistra e a destra il comodo guardarola. Scendiamo questi gradini, abbiamo la zona della cucina sulla sinistra, l'uscita al giardino o alla piscina, lo studio con palestra sotto il salotto, la prima camera e da questa parte la seconda camera. Vediamo prima questa, cameretta con già inserito un armadio a muro, qui abbiamo il bagno privato con water, lavabo con due cassetti, specchio e l'inbox doccia. Le pareti sono quasi totalmente fatte in stucco veneziano, abbiamo tutta una serie di spottini le zone con led integrati, da qua controlliamo delle varie luci a disposizione, anche le finestre sono elettriche e qua la camera padronale, anche qui abbiamo il muro inserito, il letto, qui un piccolo guardaroba e qua il bagno padronale. anche qui abbiamo diversi spottini, bellissimo box doccia, bidet, water e qua la sua bellissima bosca idromassaggio, lavabo. si nomina un po' tutto qua. Bene proseguiamo, dicevo appunto la superficie dell'appartamento è di circa 260 metri quadri, qui la zona soggiorno, salotto. Andiamo a scoprire la cucina, intanto vediamo anche un po' all'esterno. l'appartamento è fronte lago, accesso diretto al lago, cucina a un doppio lavabo, piano cottura a induzione, circolare scusatemi, frigorifero americano con anche congelatore integrato, possibilità di fare il ghiaccio, forno steamer e forno ad aria calda, frigorifero per vini e di qua la macchina del caffè integrata. Gli elettrodomestici sono misti, abbiamo qua la macchina del caffè che è Miller, frigorifero Electrolux, Siemens per frigo del vino, i forni sono sempre Electrolux e piano cottura invece Zanossi. Andiamo a vedere ora l'esterno. Questa è una bella panoramica di qua. Ecco qua. All'esterno abbiamo questa piscina riscaldata con anche la zona idromassaggio anche qui. E tutto questo bel giardinetto a disposizione. con questa parte si accede al molo, quindi si scende direttamente sul lago, con anche il posteggio per la barca e la coppa. Vi ringrazio, è tutto, vi affitto. Grazie.